If you find anomalies, turn back, com'è, com'è sempre. Sì, inizia così direttamente. Ah. Beh, è molto, molto prigione, effettivamente. Molto, molto bello. Letteralmente una prigione. Sono molto fluo i carcerati, devo dire. 83206. Ah, aspetta. Aspetta, partiamo con ordine, torna alla porta. Ah beh. Ok, allora, le prime due celle sono vuote. Ah, sì, prime due a sinistra e a destra, sì. Ormai si è venuti preparati. La seconda. C'è un tizio di colore con scritto 83206. 83206. A sinistra. Poi, la terza cella a destra. Vuota. Cioè... No, aspetta. La terza cella a destra. È dove c'è il prigioniero. Ok, e c'è scritto 72092. Poi, quella dopo sulla sinistra. Sono alternati, tipo 66707. Poi c'è faccia di merda qui, 33805. Quella dopo a sinistra, a destra, vero? Esatto. E poi le altre due sono vuote. No, dimmi, dimmi il codice, non lo ricordo. 33805. E poi vuote, giusto? Già. Ma è troppo facile così, ci saranno dei dettagli. Yes. Però vediamo dove va. Ok, primo. Primo piano. Allora, intanto... Il numero dei prigionieri corrisponde. Questo tizio era così? Prima? Forse dobbiamo ricordarci le facce. Oddio. Eh, boh, non me lo ricordo. Avrei segnato i numeri. Allora, lui è giusto, credo. Lui pure. Questo qua è il dubbio. Quindi, nero-bianco, bianco-nero. Cioè, nero-bianco, nero-bianco. Sta andando avanti che... Vediamo. Mi sa che era giusto. Guarda il numero per terra, siamo il 2, ok. Sì. Per quello ho detto, mi sa che era giusto. Guardiamo i numeri, scusa. Sì, adesso guardiamo i numeri, perché... Avevo il dubbio per la faccia. Poi, 83206. Sì. 72, 092. Sì. 67070... 6, 6, 7, 7, 0, 7. Ok. 33805. Sì. Al primo errore rivalutiamo un po'. Vediamo cos'altro ci può essere, perché è troppo facile che ci siano solo i numeri e le facce. Infatti. Infatti. Allora... È che non è che si vede bene dentro le celle. Alta. Stavo contando le... Le luci. E non solo. Allora, le luci sono bianca, nera, bianca, bianca. Bianca per 2, poi... Nera e poi 3 bianche. Anzi, no. Sono due bianche. Una nera e una bianca. Sì, è come all'inizio. Bianca, nera, bianca, bianca, nera, bianca, bianca, nera, bianca. Poi ci sono queste qua che sono forse telecamere. Sono telecamere. E ce n'è. Qua già c'è una noma... No, non ce ne sono noma di. Ce n'è una a destra. Poi nessuna, poi una a sinistra, poi nessuna, poi una a destra. Quindi ci sono 3 telecamere in totale. Aspetta. Una subito a destra. Sì, quindi... Due a destra e una a sinistra. Poi nessuna. Una a sinistra. Poi nessuna. Una a destra. Ecco. Io vado avanti, poi piano piano cercheremo dettagli, cosa. Questo era giusto. Era giusto. Mi dà fastidio che le sbarre... Oh, questa porta è aperta, quindi... È un'anomalia, direi. Già la possiamo escludere. Infatti... Le luci hanno lampeggiato. Eh, già. Già. È un'anomalia anche questa. Bella. Sto guardando le facce, tanto per cominciare. Però c'è pure il tatuaggio, è sempre lì. Lì, sembrano sempre le stesse. Sì, anche a me. Adesso guardiamo le luci. Nera, bianca, bianca, nera, bianca, bianca. Giusto. Le telecamere sono... Questa è giusta. Quella è giusta. È giusta. Guarda i numeri. Giusto, i numeri. Stavo dimenticando la prima cosa. Questo è giusto. Puttana la miseria, che fastidio. Non me lo ricordo. 72092. Sì. 66707. 33805. Potrebbe essere giusta? Maybe? Sì, io penserei quello. Non c'è niente di evidente. Magari ci sbagliamo, eh, però. Sì, è possibilissimo. Prevedo già un esaurimento. Ma è sempre stato così. Era sbagliato. Era sbagliata. Allora, quell'iniziale è sempre giusto, credo. Di solito è così. Per darti un'idea. Cioè, dovrebbe essere così. Se non è così, sono stronzi loro. Sì. Sto guardando tipo l'altezza delle porte, no? Quindi... Le luci sono giuste. Le luci sono giuste. Le telecamere... No. Manca una telecamera. Infatti. Sì. Ok. Direi che è un'anomalia. Direi che ha dato di testa un attimino. Allora, non vorrei dire una stronzata, ma in questo gioco mi sembrano molto più evidenti. Che negli altri. Almeno ce ne sono alcuni che sono un attimino più clementi. Telecamera. Camera giusto. L'ha sempre avuta questa mano fasciata? Non ne ho idea. Secondo me no. Dici. Vediamo. A me mi sarebbe saltata all'occhio. Nel caso ce lo segniamo che deve avere una mano fasciata. Ok. L'ha sempre avuta fasciata. Porca troia. E non ci abbiamo mai fatto caso. Classico comunque. Già. Sono tutti così sti giochi. Ci fanno lo stesso effetto. Io mi immagino il primo che ha scoperto sta roba e ha detto aspetta è sfruttabile. Credo che sia quello di Exitate il primo. Cioè che sia Exitate il primo. Ok. Allora. Le luci sono giuste. Le luci sono giuste. Le telecamere le hanno visto se c'è l'ultima. Sì. Ok. 805 mi vera che fosse giusto. 66707 pure. Sì. 2092. 83206. Sono un attimo indecisa su questo. Sì è giusto. A me sembra giusto. Anche a me. Non vedo cose strane. Quella della mano fasciata. Porca troia. Mi ha proprio fregato. Infatti era giusta. Le telecamere sono giuste. Le luci sono giuste. Ma c'erano fasciate giuste. Aveva questi tatuaggi in faccia anche prima? Non lo so. Perché di questo l'ho notato ma di lui no. Apetta il numero. Il numero suo mi sembra giusto. Non hai visto il numero dell'altro di mezzo? Non questo l'altro. Questo? 72092. Sì. Sono i tatuaggi in faccia che non mi convincono. E cazzo ha qualcosa al collo tipo un cerotto? No. Sì. Dove? Sotto il mento dal suo lato destro. Non so se è un riflesso. No è un cerotto. È un cerotto? Cazzo non si può fare lo zoom però che palle. Che palle è sempre un cerotto. E allora non credo. Per me è indietro. Vediamo se ce l'ha sempre avuto. Vediamo se ha sempre avuto i tatuaggi. Ok. Allora il tatuaggio... Ha sempre avuto tutto. Che facce da cazzo? No le telecamere sono giuste. Mi piace che hanno messo i neri a sinistra e i bianchi a destra ordinati. No. Non l'avevo notata sta roba. Non capisco perché sono in isolamento però sti poveri Cristi. Le celle sono da due perché sono da soli. Evidentemente scarseggia... Bella raghi. La gente. Stai andando vi saluto. Va bene dai. Buonanotte. Buonanotte. Noi ci chiuderemo su questo probabilmente finché non lo finiamo. E poi stacchiamo. Come ti guarda? Tu che sei libero. 83206 È giusto. 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 Che dici? Vado avanti? Due avanti. Perché non... Non abbiamo ben memorizzato i contenuti delle celle. Ma perché mi sembrano veramente tumace? Perché sono pure scomode da osservare. Già. Per quello. E invece... Dobbiamo studiarci. Allora ogni cella ha due letti. Possiamo segnare dove c'è la carta igienica se vuoi. Sì. Hai pensato magari a fare un disegnino piuttosto che scrivere? Vuoi provare? Dov'è la carta igienica? Allora la carta igienica sta nella prima a destra. Prima a destra. Poi. Nella seconda a sinistra. Poi. Nella terza a destra. Lineare. Nella quarta a sinistra. Yes. Sì è... Quinta a destra. E sesta a sinistra. Sì. E la carta igienica è così. Se la fanno... Se la passano. Se gli... Gli... Se la lanciano da una cella all'altra. Vabbè. Abbiamo la carta igienica. Sì. Solo la carta igienica. Guardare il resto non ti piaceva? No. Ma perché devi fare le cose col culo? Perché? Io le cose qua non le posso segnare perché non so se sono giuste o meno. Lo so. Ti odio. Però adesso abbiamo... Ok. Secondo me non era così l'ultima volta che si... No me lo ricordavo un po' più vivo. Ma puttana Eva. Io poi prendo male gli appunti e non trovo le cose quando ci servono. Allora la disposizione della carta igienica mi sembra giusto. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Poi le luci sono sbagliate. Manca la placca nera. Yes. L'acca nera ok, telecamere. Stavo portando le telecamere e mi sembrano giuste. Sì. Credo che in questo non ci siano tipo i jumpscare, le cose che ti uccidono. Credo che la carta igienica sia invertita, non ho capito. Vuoi ricontrollare? No, la prima a destra è giusto. Allora, quindi destra, sinistra, destra, sinistra. A me sembra tutto regolare a sto giro. Vogliamo guardare i numeri? Guarda i numeri. È sempre stato così? Cosa? Che il primo è lui? Sì. 832, 06, sì perché poi uno diventa scemo. 832, 06 è giusto mi pare. Sì. 7208. 660, 07, 07, 08, 05. Io andrei. Sì. Io c'ho sempre la speranza di riuscire a finirlo con poco sforzo, per questo non volevo guardare gli altri dettagli. Che palle. Allora, ci siamo? Il quarto è un nuovo obiettivo. Io do sempre un'occhiata preliminare, prima di tutto. La cartiginica è giusto. Sì, sì, infatti. 092, 667, 07, 3, 3, 8, 05. Mi sembrava tutti giusti. Guarda le luci un attimo, per favore. Le luci mi sembrava fossero giuste. Sì. Non so se le celle devo provare ad aprirle, ma non credo proprio. No, no. Che dici, vado avanti? Vado avanti, prova. Anche se ho la sensazione che ci stiamo perdendo qualcosa. Sì, anche io. Stavo guardando le bocchette di areazione che ci sono in ogni cella, ma corrispondono. C'è sempre una in alto a destra, sul lato sinistro, mentre sul lato destro è in alto a sinistra. Ok. Ok. Pure la posizione delle luci all'interno delle celle è da capire, perché questa mi sa di sbagliato, ma magari non... Allora, le bocchette, hai detto? Le bocchette sul lato destro sono in alto a sinistra, e sul lato sinistro sono in alto a destra. E le luci? Le luci sono a coppie, però saltando un muro. Quindi il primo muro tra queste due, sia da un lato che dall'altro. Quello dopo no, quello dopo ancora sì. Ok. E quindi le luci sono un'altra cosa. Andrei? Proviamo. Magari arriviamo al 5. Magari. Magari. E piano piano comunque raccogliamo cose da controllare. No. Qualcosa ce la siamo sbagliata. Che cosa? Allora, volevo vedere sta roba delle luci, se... Se era corretta, ma mi pare proprio di sì. A coppie saltando un muro. A coppie saltando un muro, sì. Le bocchette... Avevo detto che da questo lato sono a sinistra, e da questo lato sono a destra, quindi... Che mi pare corretto? Sì, beh, questo è l'originale, quindi non... No, mi pare che l'abbiamo preso corretto, perché non l'abbiamo preso all'originale, la cosa delle bocchette. Ogni cella ha un coso dell'acqua, credo sia un coso dell'acqua, o un lavandino. Probabilmente è un lavandino. No, perché il lavandino è quello lì in nero. Hai ragione. È un cesso? Sarà il water. Ma come? Un pisciatoio. Sembrava un distributore dell'acqua, tipo quelli che mettono negli uffici. Probabilmente ci infili il cazzo dentro e pisci. Oh mio Dio, no, come caghi? Se devi cagare, caghi nel lavandino. Notare che il lavandino ha tipo un seggiolino davanti. Sì. Cagherai lì, probabilmente, cioè il poggiapiedi. Solo il poggiapiedi. Va bene. Ce la possiamo fare? No? Io dico di no. Prima di controllare una guida, almeno. C'è una luce che sfarfa. Ok. Sì, avevo notato. Allora, io chiaramente prima faccio avanti per le cose proprio più palesi. Tipo prima dell'impiccato. Esatto. No, ma è bella sta cosa. Ho la porta aperta. Cioè, è bello che non hanno fatto delle anomalie buttate a caso, tipo il gatto che passa. Cioè, è coerente con lo scenario. Tipo l'impiccato in cella. Ma poi hanno finito di implodere, di far casino. A me sembra tutto corretto, non so. Sembra anche a me. Guarda la cartigenica se inizia nella prima cella a destra, ma mi pare di sì. Sì, che poi non le devi neanche magari controllare tutte. Magari non le devi controllare proprio. Ti immagini. Noi è che ne sappiamo di che cosa può... Sì, però alcune cose ce le siamo perse pur sembrandoci tutto ok, quindi boh. Come sempre. Già. Ok, qui è letteralmente giusto. Poi mi sembra da a posto, tu mi sembri a posto. A parte il fatto che sono carcerati. Sì, sono brave persone. Se notavano sempre. A parte quello. Non ti sembra un po' Creed? Sì. L'ho pensato anch'io. Sai che cosa ho in testa? Che cosa? Porca troia. Che fastidio. Non ho nessuna idea. Ma tu non dirmi niente che ti ho lasciato dei fastidi qua. Non li sentivo. Bene. Se no li avrei spostati malamente. A me sembra tutto ok. Accetto suggerimenti sulla prossima che ho stato cominciato a controllare. Nella mia idea ci stavo giusto pensando perché è clueless. Da una parte è semplice perché lo spazio è proprio... Però dall'altra... Che cosa? Non ho guardato bene le luci. Già, lo stavo dicendo. Cioè, se lo stavo per dire. Pure i lavandini sono attaccati. E tra l'altro i lavandini corrispondono alle luci. I lavandini corrispondono alle luci. Questa è una buona... È un buon punto di partenza. È un buono slogan. Sì. Certo. È che non ha musica sto gioco e questo te lo rende pesante. È una prigione. Non puoi avere... Cioè, divertirti la musica. Che cazzo vuoi? È una prigione. Devi soffrire. Devi annoiarti. Bene. La mano fasciata c'è. Doviamo pure memorizzare l'espressione. Cioè, come tengono le mani. Ma no. C'è uno che ti fa... Il cerchietto. Paghi la mossa. Questo qua c'ha un pugno mezzo chiuso. Credo che sia una coincidenza, tipo. Chi lo sa? Ah. Direi che sia un'anomalia. Andiamo nel fuoco. Andiamo nel fuoco. No. Beh, questo conferma che non possiamo morire. O forse sì. Allora... Hai preso un achievement? Sì, l'ho fatto per quello. Adoro. Ho fatto perché volevo l'achievement. Ho detto, ci sono tre achievement. Uno per avviare il gioco, uno per finirlo. Magari uno se muori. Devi essere proprio stupido per andare a buttarti nelle fiamme. E' pure. Ok, le luci sono giuste. L'accoppiata a luci lavandino... E' giusto. E' giusto. Da questa parte. La carta igienica è giusta. E' giusto. Sì? No, stavo guardando pure i dettagli. Mi pare di sì. Sì? No, torna indietro. Questo? Il numero. Voglio vedere... Ah, sì, l'ho guardato. Ah, mi sembrava un uno. Ho flashato un uno invece del... Sì? A me sembra giusto. Anche a me. Ho paura. Mi è piaciuto comunque l'anomalia del tizio che è impazzito, ha dato fuoco a tutto. E poi era lì nel mezzo in mental breakdown. Ah! Ci sono sbagliati qualcosa. Stavo pensando pure magari la porta, però la porta non mi pare che abbia... Mi sembra sempre uguale. Sì. Ce ne saremmo accorti. Cioè non mi pare che abbia grandi dettagli che puoi andare a cambiare. Esatto, cioè se tipo gli togli il vetro cacchio ce ne accorgiamo, se cambia il pinpad. Sì, al massimo il numero di asterischi, ma non... Non lo so, mi pare un po' tirata. A me sembra tutto giusto, anche stavolta. Il problema è quello. Anche stavolta. Il numero di telecamere è giusto, il numero di cosi neri è giusto. Giusti lavandini, giusto le bocchette d'aria. Pure il lato dei letti ci sarebbe da... Ma anche il lato dei letti è comunque speculare. No, lo vedremmo se non fosse giusto, perché è sempre uguale. Cioè a me salterebbe all'occhio. Andiamo avanti. E infatti era giusto. Allora le telecamere sono giuste. Le placchette sono giuste. Manca un prigioniero. Esatto, stavo per dirlo. Manca uno. Stato rilasciato per buona condotta. Ti immagini che li trovi che si scambiano? No. Per farti impazzire le guardie. Si fanno trovare... Io lo farei. Cartigenica c'è, cartigenica c'è, cartigenica c'è, cartigenica c'è, cartigenica c'è, cartigenica c'è. Controlliamo che tutti abbiano la carta da culo, è importante. I lavandini ci sono. I lavandini ci sono. Mi sembra tutto corretto. Guardiamo i numeri. Aspetta, se... 63206, un attimo l'absus. No, è 83206. Si. Ah, ho letto male. Poi 72092. Ok. 66707. Si, quello me l'ho detto. E l'ultimo l'ho visto già prima che era giusto. Andiamo. Proviamo. Se non era giusto, urlo. Preparati. Di solito è quando siamo convinti che... Infatti. Infatti. Ma come? Cosa ci stiamo perdendo? Non abbiamo guardato bene i muri e il pavimento, credo. Però non mi sembra che ci siano così tanti dettagli che puoi andare a... No, infatti. Cioè, al limite puoi far casino con le piastrelle, ma cazzo sarebbe evidente. Oh, a me sembra di nuovo tutto giusto. Anche a me. Le camere sono giuste, eh? Anche a me, come ti tirano scemo sti giochi. Io... Quando ci stanchiamo andiamo a guardare una guida per vedere un attimo che cos'è che ci stiamo perdendo. Era tutto giusto. Era giusto. Let me out. No. Non ho visto se... Ah, no, era questo dove era il cerotto. Sì. A me sembra tutto giusto, però guardiamo meglio per la questione carta igienica. Cioè, carta igienica barra lavandini, barra letti, barra luci. Mi sembra tutto corretto. Come ogni dannata volta. Lascia stare che ce l'ho allo in testa. Ce la possiamo fare? No. Infatti? Zero. Scusami. Vuoi vedere una guida? Vuoi vedere intanto se... se c'è. Qui su Steam. Può essere che ci sia altrove su internet. Mi stai indirettamente chiedendo di cercare? No, ma ci sono molto vicino. Oh no. Si stava per fare esplodere. No, è pochissimo conosciuto sto gioco. Ci sono solo due discussioni su... Oddio. Le porte. Le porte sono impazzite. C'è un poltergeist. Ci sono solo due discussioni nei faremi di Steam. Una chiede il supporto per il controller PS4 e l'altra dice che il gioco è troppo corto. Ah, bene. Allora, a me sembra... Sembra, eh? Sembra corretto. Anche a me. Il problema è che ho idea che ci stiamo perdendo qualcosa. Non è corretto. Cos'è? Manca la mensola su cui dovrebbe stare... Cioè, manca il letto di sopra. Ah, già? Ma ti dicevo... C'è qualcosa che non va a mangiare. È anche un po' buggato perché la carta igienica si vede ma se ti avvicini non si vede più, però... Guardi, immagini... Era corretto ed era solo un bug. Nooo. Eh, manca un prigioniero. Manca l'altro nero. Un prigioniero. Siamo due deficienti. Cioè, non si può ridere queste battute. No. 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 Eh... Ma porca puttana, dottore! Ce l'ho in testa adesso, perché... Kill me now, kill me now. Adesso mi capisci ancora la volta che l'ha rimasto in testa a me? Meno, perché... Cioè... Tu non hai la stessa familiarità con Quake 2 che ho io. Sì, ma ti ho seguito giocarlo diverse volte. Questo basta ad alimentare la mia ecolalia. Perchè troia. Sono fondamentalmente un pappagallo. Sì, sì, 7, 0, 7. Un pappatauro. 3, 3, 8, 0, 5. Mi sembra tutto giusto. Sì, stavolta penso che sia tutto giusto. Anch'io, ma genuinamente. Adesso è 0. No. 7. 7 è un nuovo traguardo. Per mia... Porca puttana. Io ce l'avrei messo. Già. L'audio di Quake 2. Per tributo, proprio. Sì, esatto, per tributo. Per lavoro. No. Queste due linee ai lati ci sono sempre state, vero? Sì. Le linee gialle, ok? Sì, le avevo già notate io. Grazie. E poi dubiti di tutto nella vita. Comincio a dubitare di qualsiasi cosa. Allora, i numeri sono giusti, mi sembra. Let me out. 6, 0, 7. 7, 2, 0, 9, 2. E... 8, 3, 2, 0, 6. Let me out. No. Che cosa? Niente, no, ho avuto... Ho avuto un... Un dubbio. Un flash sbagliato. andiamo avanti si ho paura prepariamoci a cercare una guida nel caso vada male io mi sono rotto i coglioni è giusto è sbagliato sbagliato il muro è sbagliato il muro non doveva esserci siamo quasi hanno murato le celle con i prigioni lì dentro no immagino che siano 10 sono sempre 10 si appunto allora ci sono tutti i nostri amici ci sono tutti la carta igienica è giusta luci e lavandini le bocchette sono giuste i numeri 83206 è giusto perché poi magari noi ci siamo concentrati su queste cose che non è detto che però solitamente sono le cose che vanno a cambiare quindi è meglio controllarle come le targhe delle macchine io andrei avanti anch'io ho paura e invece dai a meno che la rinomalia non è questa dovevamo tornare indietro ma non credo no dai bella cazzo questo l'abbiamo risolto subito rispetto agli altri ma a parte che ci siamo organizzati questo è oggettivamente più semplice praticamente gli appunti non ci sono serviti non ci sono serviti però nella top dei giochi così metto sempre in prima posizione midnight monitor sì è il più bello secondo me tra i loop anomali e questo non ho capito se ah no ok iniziamo a temere che dovessi altf4 arlo no però possiamo ricominciare da cazzo no basta non è che ci serve altro l'abbiamo finito ho pure preso tutti gli achievement direi di capolavoro esatto neanche però credo che sia il gioco che hai completato e cento percentato più in fretta tra tutti no perché c'era anche diff blind quello che devi premere i tasti a cazzo grazie a tutti